You've got to stay on, stay on, run, walk to bed, stay on, run Adesso mi resta la sinistra Già capitato? Volete che non accada mai più? E allora sostenete il progetto Ginkana Una rete creata assieme agli enti in maniera tale da rendervi sempre informato di qualsiasi problema sul vostro territorio Con una semplice mail oppure un sms Partenza all'ultimo minuto? Bene, allora dite dove siete e dove volete andare, il resto lo fa Ginkana